Il tuo compito Questo sarebbe il tuo compito? E che ormai ha oltrepassato il limite Ti ho fatto una domanda, voglio una risposta Qual è la domanda? Perché continui a raccontare balle? C'è una speranza che sua madre torni a essere presente? No Mi puoi portare in un post? Certo Ma devi tenerti forte E' passato quel ragazzo Ha lasciato questo per te Sam, io non ti ho dato del pazzo Cosa volete? Stiamo solo cercando la madre del ragazzo Quando si cerca la verità Bisogna essere sicuri di voler arrivare fino in fondo Sì, è stato sicuramente un po' di più 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 Sì, è stato sicuramente un po' di più